Buongiorno a tutti, oggi preparo una torta con le pesche sofficissima, facile e veloce. Mi occorre 320 g di farina 00, 100 g di fecola di patate, 160 g di zucchero, granella di zucchero a piacere, un pizzico di sale, 125 g di burro, vaniglia, una bustina di lievito per dolci di 16 g, 120 g di latte, 4 uova, succo e buccia di un limone. 400 g di pesche, inizio la preparazione e in una bulle metto le uova, metto lo zucchero, monto un po' le uova, metto un pizzico di sale, ora aggiungo il burro e lo mischio alle uova. Metto il latte, ora metto la farina. E la fecola di patate. Mischio tutto. Grattugi il limone e lo spremo. Lo aggiungo al composto, metto la vaniglia e mischio. Ora setaccio il lievito. Mischio ancora. Ora versi il composto in una teglia di 30x40 g, nella quale ho messo la carta da forno. Distribuisco per tutta la teglia. A questo punto aggiungo le pesche, che precedentemente ho fatte a fettine, e il peso netto è 400 g. A questo punto metto la granella di zucchero. Ora la vado ad infornare in forno caldo e statico a 180x40 minuti. Ed eccola pronta. Ora la taglio. Pronta da gustare. Bella soffice e gustosa. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace. Grazie a tutti.